la madonna della cintura chiamata anche madonna della consolazione ecco abbiamo notizia già nel 1600 prima abitavo in via finale era il capitello dei nostri giochi la chiesa non accettava di buon grado questa queste immagini della madonna e quindi mi ricordo che i fratelli di mio nonno erano in chiesa insomma ci sono offerti di portare a casa la madonna e abbiamo messo qua in casa qua e ora c'era tutta quanta la casa e lì anche lì storia un pochettino la madonna andava veniva la portava eccetera del genere ecco siamo arrivati all'attuale situazione dalla testimonianza degli abitanti lì diciamo del luogo della frazione del finale grazie a tutti